eccoci qua ragazzi altro video questo un po che devo farlo e finalmente ci siamo un accessorio voglio provare questo accessorio che non ho mai provato secondo me valido praticamente il tubliss generazione 2 l'ho preso per ruota posteriore ruota anteriore oggi andiamo a fare il montaggio della ruota posteriore perché devo cambiare quella è finita le maxis sono molto dure non mi piacciono perdono tutti i pezzi di tasselli trazione quella che è va bene su terra battuta o su strade normali insomma se cominciamo andare in situazioni dove adesso arriva l'autunno un po bagnata un po di sassi un po di fango un po di foglie secche bagnate che fanno tutta quella ho bisogno di trazione anche andare in salita in certi sentieri un po diciamo tra virgolette impegnativi non diciamo hard perché sennò dopo cominciano i commenti che sappiamo già perché la gente pensa solo che l'enduro probabilmente la gente che segue youtube pensa che l'enduro è solo vedono i filmati i video che fanno di dell'hairsberg rodeo di tutte le gare che fanno di hard enduro perché è quello che va e la gente che massacra le moto su per le pietre e le lancia giù va su dalle salite poi lancia indietro la moto rotola la moto quello è bello da vedere lo so anch'io perché guardi una moto che rotola è uno che può cadere che si può fare del male io non voglio farmi del male perché una certa età non ho bisogno di rompermi le gambe se no non posso più lavorare la mia famiglia fa andare avanti comunque al di là di questo l'enduro non è solo hard enduro l'hard enduro è una disciplina di chi vuole fare hard enduro si allena per fare hard enduro basta andare nei boschi andare a fare l'off road andare a fare strade battute mulattieri o sentieri è l'enduro normale è quello è l'enduro poi ci sono percorsi un po più impegnativi un po meno certi che da soli non si possono fare perché magari certa roccia o certi scalini da soli non puoi devi essere in due o tre che ti tirano però lì andiamo già in un ambiente estremo dove la moto la porti a una disciplina di trial ok andiamo verso il trial io non ho il trial a me non mi piace fare trial mi piace sì è la situazione di equilibrio di scavalcare la roccia qualcosa che ci sta perché l'enduro è anche quello ma non la situazione di trial di andare su nelle rocce tipo hard enduro quello è quasi trial è un trial con la moto da enduro io lo vedo così dopo so che fa view su youtube ma non è il mio caso io non faccio quelle cose lì e poi vi dico una cosa la telecamera non rende mai perché ha un effetto lente che è rotonda non si vede mai né le salite né le discese come sono le difficoltà delle cose viste con un action cam sul casco qua o dove volete non è mai la realtà è sempre molto di meno molto più livellata sembra tutto piatto ma non è così comunque parentesi chiusa abbiamo le due gomme nuove michelin medium 140 e 90 90 e abbiamo il nostro smontagomme le nostre leve il nostro grasso i nostri tubeless ci sono tutti i link sotto da andare a vedere di tutte queste cose i tubeless non so se ci sono ancora da amazon qua perché c'è amazon.com qua in italia non c'è ancora comunque vi spiego un po un attimino come funziona praticamente questo accessorio cosa fa vi dà modo perché non ho messo le mousse allora ecco vediamo questa cosa qua io uso le camere d'aria perché a volte faccio trasferimenti magari anche di 7 8 10 chilometri o tra un tracciato un sentiero una mulattiera quello che è andare da un'altra parte devo per forza prendere l'asfalto sto nella zona dove sono e non ho bisogno di prendere il carrello per andare a fare enduro perché io abito dove ci sono le montagne problemi non ce ne sono però devo spostarmi con la moto avere le mousse è come andare in giro dopo varia sulle con le varie durezze di mousse però è come andare in giro con le ruote sgonfie più di tanto in velocità non puoi andare perché sennò si surriscaldano e si rovinano e poi c'è questa manutenzione che ogni tanto insomma ovviamente bisogna tenerle un attimino come si dice lubrificate tra virgolette perché sennò si rovinano tutte perdono la loro proprietà allora cosa faccio montavo anche sull'altro beta le camere d'aria rinforzate perché così almeno se succede qualcosa alla peggio uno dice mi porto gli attrezzi mi porto un'altra camera d'aria nello zaino e mi cambio la mia camera d'aria lì sul posto però è sempre un po' una sbatta nel senso se ti capita di bucare o di prendere dentro qualcosa che succede perché può succedere devi sbatterti a stare lì a smontare tutto devi trovare il posto dove appoggiare la moto devi tirare giù una ruota devi buttare giù la moto in costa esce la benzina se sei da solo è quasi impossibile cioè ce la fai ma devi tribunare tanto allora cosa ho detto un po' di un po' di anni che vedo questi tubeless qui però dico boh non lo so vediamo non volevo costano sui 100 qualcosa euro non costano neanche poco però loro dicono sul manuale che 100 ore loro dicono 100 ore ma fate conto che sul loro manuale è una cosa conservativa 100 ore per me ne fanno anche di più fino che non si consuma questo bordino che è quello che fa di tenuta che è quello che tiene la gomma non ci sono problemi comunque ho scelto questa per quel motivo lì perché voi con questa avete una gomma come se fosse a run flat se bucate vi esce l'aria la potete riparare come un tubeless perché diventa tubeless la gomma questo va sul cerchio la camera d'aria che c'è dentro rinforzata apposta va pompata 10 atmosfere sigilla il nastro dei raggi e spinge queste questo diciamo camicia di di come si dice di di acciaio e di gomma che spinge si allarga e spinge il copertone contro il cerchio per sigillarlo praticamente poi dopo voi avete l'entrata dell'aria del vostro copertone che vi potete gestire da 0 loro dicono 0 7 ma si può andare anche a 0 2 0 4 è una trazione di 0 4 è spaventosa sulle rocce andando in salita nelle mulattiere piene di rocce anche non sassi che si cavano ma anche sassi che si cavano un po' tutte quelle situazioni molto anche fangose o situazioni molto viscide dove c'è bisogno di trazione anche sulle rocce sui sassi questa è una situazione come avere una mousse morbida anzi meglio perché potete andare anche su strada finito il vostro girettino come la camera d'aria vi pompate la vostra gomma di nuovo la vostra atmosfera atmosfera e 2 quello che è uno e mezzo per andare su strada arrivata sul posto avete bisogno di trazione andate a uno andate dipende del tracciato che fate avete bisogno di andare su da delle rocce un po' brutte un po' di sassi che si cavano 0 6 0 4 0 3 e la gomma una trazione della madonna poi con i misilè in questi qui cioè questi sono belli morbidi tasselli io volevo questa apposta quella davanti oggi non la cambiamo perché la faccio andare ancora un po' la cambierò il video che faccio oggi vi faccio vedere a montare questo basta poi altra cosa non pensate che montando questa la gomma diventa tubeless e non la gonfiate più perché non è così un po' di perdita ce lo dice anche il manuale perché la superficie con la pressione che ha è piccola e in rapporto alla pressione che c'è c'è un po' di perdita dopo io penso che adesso vedremo però ogni volta che uscite dovete controllare la pressione però in una giornata voi avete io dietro il compressore non è che si sgonfia sconfierà dopo una settimana comincerà a calare comunque secondo me è un buon prodotto lo proviamo lo testiamo vediamo come va secondo le mie esigenze per quello che uso io che ne faccio io che è un off road enduro a volte normale su strade bianche o su strade nella montagna così o trasferimenti sentiero mulattiera un po' più brutte con sassi o cose vedete i miei video dopo magari qualche volta c'è quel sentiero un po' bruttino dove c'è da un po' di cose un po' brutte e lì serve quella trazione lì che a me manca e quando c'è anche umido questo qua secondo me è il top con le gomme giuste misilè medium perché vanno bene durano vanno bene in tutte le situazioni sono morbide sono medium ma sono morbide non ho messo le volevo mettere mezzelere soft ma sono troppo soft non durano niente queste vanno bene con una situazione di trazione di pressione così bassa con questo secondo me è meglio perché i tasselli sono quella via di mezzo un po' più duri tirano raspa raspa al beta dai allora iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video manutenzioni fai da te giri in moto off road enduro manutenzioni alla moto mezzi perché ci sono i mezzi due tempi che a me piacciono il sound del due tempi i motori i giri con il k690 che adesso andremo a vendere perché avete visto il video lo vendo chi fosse interessato va nelle link va nelle info del canale però dovete andare su desktop perché dal telefono non si vede aprite la home page del mio canale davide 79 c'è sono tutta la barra dove c'è video playlist post in fondo c'è informazioni lì ci sono le informazioni del canale sotto vedrete mail è solo per cose commerciali e collaborazioni non rispondo a chi mi fa domande lì le domande che dovete farmi le fate nei commenti però in questo caso chi volesse acquistare la moto dopo io gli giro la descrizione il link con la descrizione dai gnari iniziamo allora prima cosa da fare tiriamo giù la nostra ruota diamoci i guanti per non massacrarci le mani ci massacriamo tutto ecco andava pulito il cerchio io non l'ho pulito lo pulisco adesso bene è meglio dare è meglio dare una lavata alla moto sto perno non va bene togliamo la nostra valvolina togliamo il nostro dado del nostro fermacopertone il nostro smontagomme che vi lascia un link anche di questo comodo perché se non avete questo è dura la situazione tenti non disintegrare questo dovete averlo per forza se no attenzione al cerchio che questo si muove come fate a togliere la gomma tutto un altro mondo sganciamo bene il nostro abbiamo bisogno delle nostre leve un po lunghe 4 5 leve un po lunghe si comincia dal contrario del fermacopertone spingiamola sempre sempre giù bene che dà una mano ad uscire il contrario della fermacopertone così lui ha più ha più agio ok vedete esce meglio va da solo sta tutto il primo momento primo pezzo poi togliamo questi giriamo andiamo a prenderci la nostra la nostra cameretta sempre al contrario del fermacopertone dov'è il fermacopertone è qui che contrario fermacopertone spingiamo giù la nostra gomma il nostro fermacopertone adesso cosa bisogna fare bisogna contare dal fermacopertone e dalla valvola quattro raggi ok 1 2 3 4 se avete il buco del fermacopertone a quattro raggi dalla valvola siete a posto altrimenti dovete fare voi un foro dovete fare voi un foro dal vada la valvola della camera d'aria di 10 mm controlliamo sempre anche questa situazione qui dei quattro raggi perché bisogna controllare tutto ovviamente comunque c'è un manuale dentro dove si spiega tutto intanto mettiamo già la camera d'aria a distanza giusta allora adesso procedura allora buco da 10 mm dove deve andare il fermacopertone ok cerchi meno massacrati possibilmente il nostro buco da 10 se abbiamo uno svasatore gli diamo una svasatina togliere bene queste bave che ci sono o sennò con uno svasatore svasatelo sgrassare bene e pulire bene il cerchio io sto usando lo chantecler perché deve venire via tutta questo incide molto su poi sulla tenuta del cerchio l'importante che non ci siano bave o cose che possano rovinare il cerchio ok o della vecchia come si dice il video un po lungo ok adesso andiamo a montare il nastro il nostro nastro allora io gli passo un attimino anche di pulitore freni perché mi toglie il grasso ok perché voglio che il nastro si incolli bene e non si sposti molto importante questo mi raccomando o uno sgrassante della catena o il pulitore freni perché evapora subito e vi toglie le rogne perché dobbiamo andare a mettere il nastro dove c'è questa conca la pressione lavoro su questa conca la camera d'aria che ha 10 atmosfere che spinge l'altra camera d'aria contro qui e tiene il copertone contro per sigillare e dopo ovviamente come vi dicevo il cerchio nella produzione ha dei segni qualcosa di aria uscirà non è che capite non sono cerchi tubeless questi però più fate questi passaggi bene e più non dovete poi avere avete meno problemi insomma bene allora il nastro vanno fatti tre giri uno centrale uno laterale che arriva fino qui e uno l'altro laterale fino qua mi raccomando questo importante se no si pizzica la camera d'aria sotto il lavoro che abbiamo fatto va a farsi benedire tiratelo un po' io lo schiaccio tanto dopo si schiaccia non è che ok terzo giro laterale ok anche un filettino sopra lo spigolo che non gli fa male per avere quella sicurezza di essere stati nel giusto schiacciatelo un po' perché sennò dopo magari si ritira bene siamo arrivati in fondo facciamo i buchi dove vanno fatti ok abbiamo sagomato i nostri buchi abbiamo sagomato i nostri buchi la vita che c'è qui nella camera d'aria non va tolta va lasciata lì ok non toglietela io la tiro appena appena e questa poi andrà a fare da guarnizione guardiamo la misura come vi dicevo esatta di dove più o meno deve andare la camera d'aria per non sbagliare dopo e inseriamo la nostra camera d'aria dentro dove era prima quando inserita bene come da originale allora io utilizzo adesso un po' di chanteclair va bene lo chanteclair scivola bene bagnate bene dentro con lo chanteclair perché deve deve scivolare bene anche fuori il cerchio è bello pulito ok siamo sempre alla situazione di prima dove il cerchio deve essere pulito andiamo a mettere dove c'è la nostra camera d'aria il nostro blocco mettiamo la vittina della camera d'aria che la tiene ferma per non farla uscire non tiratela lasciate il gioco stessa cosa il nostro ferma copertone adesso dobbiamo far entrare questo dentro nel cerchio il ferma copertone più va dentro e più avete agio poi di spazio per la camera d'aria capite il ferma copertone più entra meglio è per avere la camera d'aria che si muove adesso bisogna prendere le leve un paio di leve e accompagnarla ok accompagniamo una teniamo anche l'altra perché vedete come entra entra subito cerchiamo di non pizzicarla perché è molto delicata se no siamo già fermi ovviamente un po' i cerchi un po' si segnano perché cosa volete cioè non è che smontare le gomme i cerchi neri non vi si segnano allora siamo in questa situazione camera d'aria gli diamo un tirettino per posizionarla poi quando gonfiamo controlliamo che il nostro sistema sia bello in centro vedete qua mi si è spostato il nastro ok siamo in centro controlliamo che sia tutto bello mettiamo un po' di sapone sul nostro vi lascio tutti i link in descrizione come al solito sapone per montaggio gomme abbiamo il nostro attrezzo ci serve abbiamo il nostro attrezzo che ci serve per montare attenzione al senso di rotazione ok senso di rotazione non sbagliamo un attimino piano piano ce la fate bisogna schiacciare la gomma se voi schiacciate la gomma si apre abbastanza impegnativa è la situazione non è semplice non è semplice ragazzi facciamo entrare il nostro copertone sempre all'opposto allora cosa facciamo lo inseriamo ok lo lasciamo fuori da dove c'è il nostro fermacopertone ok iniziamo ad inserire dall'opposto del fermacopertone ok opposto fermacopertone ok la prima parte è andata adesso sapone a più non posso ok sapone a più non posso dall'opposto della nostra che è un bel po' di sapone viaggia anche abbastanza bene tiriamolo bene il nostro copertone che si allunga che si allunga bene è andato non lo so io so che ho tribulato perché dopo quando uno ci prende la mano capisce i trucchi e viaggia al doppio ma sto sudando io spero che insomma vada bene che ci siamo ok loro dicono di mettere un po' di sapone ancora io l'ho messo si è bagnato tutto bene bene adesso non tiriamo ancora niente di viti adesso andiamo a gonfiare la nostra per far sì che si stabilizzi un attimino il copertone abbiamo messo tutto il nostro tutto il nostro sapone bene interno pompiamo a 10 atmosfere la camera d'aria vedete che il copertone spinge e esce aggiustiamolo se vogliamo un attimino per vedere che sia che non ci siano problemi controlliamo perché esce un po' di io adesso lo sgonfio perché voglio voglio sistemarlo ok lo voglio sistemare lo giro di là non fate il pompaggio al primo colpo vedete un attimino come siete messi di sapone ce n'è 10 atmosfere siamo a 10 bar una pressione altissima adesso possiamo un attimino tirare la nostra vitina della camera d'aria il nostro ferma copertone tiriamo il ferma copertone a 12 a 12 a 12 newton metro tiriamo bene il nostro ferma copertone per far sì che si assesti ancora bene tutto facciamolo dai non gli fa male vai portiamo su di nuovo a 10 tappino rosso per questo e pressione pneumatici facciamo mettiamoli a 2 che vediamo se ci sono perdite perché poi spinge anche spinge anche il pneumatico contro poi quando si gonfia io non vedo neanche una bolla d'aria ragazzi non c'è neanche una bolla d'aria mi raccomando state attenti al senso al senso di rotazione della ruota perché se sbagliate a montare la gomma sono bestemmie che arrivano giù dopo ok io adesso la gonfio devo andare su strada adesso la metto a 1,5 vediamo quanto ci sta poi vi faccio sapere 1,5 per andare su strada anzi mettiamola a 1 che gonfia poco a 1 gonfia poco perché a 1 a 1 c'è meno pressione lateralmente che spinge e vediamo quanto tiene comunque è già la gomma già così è già più è già più molle è già più morbida dai montiamo la gomma e facciamo due considerazioni finali bene ragazzi guarda qua che bella una bella una bella mislein medium che già a toccare i tasselli godete sono proprio morbidi morbidi e poi qua in parte a differenza della maxis sporgono di più lateralmente invece gli altri erano più più in centro alla gomma diciamo invece questi sono più sporgenti dunque anche in una situazione di curva o di trazione è proprio no mislein medium top dopo un giorno monteremo volevo montare la mitas poi ho trovato un'offerta vi lascio il link in descrizione di coppie di gomme perché io compro coppie di gomme adesso faccio andare ancora un po' quella davanti però dipende dalle situazioni magari davanti faccio due gomme dietro nel senso che non le finisco alla fine perché non tengono più già a metà comincia a perdere trazione quando sono a metà i tasselli è ora di cambiarle se volete avere un attimino il grip giusto poi ovvio se la usate su strada fatela andare ancora un po' la gomma nel senso se dovete fare un po' di giri su strada dite vabbè non la cambio subito io quando a metà la cambio perché comunque vi lascio tutti il link il tublis non so se riesco a trovarlo su amazon perché ho visto che c'è solo su amazon.com però appena lo trovo metto il link tublis posteriore potete tenere e davanti tenere la vostra camera d'aria magari rinforzata c'è un po' da tribulare a montarlo ecco un po' è quello e più che altro stare attenti nello smontare di non rompere niente c'è da di pizzicare la guarnizione c'è da seguire bene c'è da seguire bene il manuale allo smontaggio faremo il video per vedere come siamo messi come non siamo messi adesso questa gomma l'altra gomma ha fatto 10 ore 12 12 ore questa vediamo dai comunque siamo pronti per nuove avventure con il beta dopo cambierò metterò il tublis anche davanti così anche davanti un attimino di situazione giù di pressione ma davanti allora io l'ho comprato perché c'era l'offerta le ho prese tutti e due principalmente a me serviva dietro davanti però sapete anche un po' quella cosa di sicurezza dici antiforatura se proprio bucate potete andare anche con la gomma sgonfia che non rovinate nulla perché la camera d'aria piccola che c'è che tiene la gomma potete andare anche con ruote sgonfie run flat senza problemi potete portarvi il kit di riparazione delle gomme tubeless come se fosse un tubeless perché diventa un tubeless praticamente diventa come un tubeless vediamo vi tengo aggiornati sulla questione pressione come tiene come non tiene come non va però loro dicono che un po' perde col tempo di non pretendere che resti la gomma pompata perché è pur sempre una trasformazione e qualche cosina ci può essere se soprattutto se andate con una pressione molto bassa il copertone tiene ma non spinge non ha quella tenuta in più che spinge in parte anche lui in parte al cerchio ci può essere sempre qualcosina dicono di cambiarli ogni 100 ore dunque mi sembra anche una buona durata costano sui 100 euro 100-120 spediti l'uno l'uno 120 e ecco magari io per una questione di sicurezza lo monterò anche davanti tanto davanti non smonto una volta di meno un po' più semplice ovviamente perché davanti la gomma un po' più morbida si fa un po' prima la cosa che fa tribulare un po' come avete visto è che la gomma è chiusa quando è nuova bisognerebbe sempre un po' magari schiacciarla che si allarga per inserire il cerchio dentro si fa un po' più fatica ecco bisogna stare attenti a non pizzicare però se mettete tanto sapone seguite bene la procedura c'è tutto bello fluido scivola dentro bene e viaggia scivola dentro bene dai non diciamo cose che sennò chissà cosa sembra comunque siamo pronti per nuove avventure con il beta restate sintonizzati perché adesso andiamo a provare la gomma nuova su un tracciato abbastanza impegnativo abbastanza bruttino un primo pezzo è già uscito un video andate a vedervi che sono andato a testare con la gomma finita poi mi sono inoltrato anche andando su per vedere ce l'ho fatta con questo dovrebbe essere una passeggiata tra virgolette dai bene ragazzi se vi piacciono questi video ricordatevi di mettere il pollice in su perché per me è molto importante iscrivetevi al canale poi dopo quando arriva la primavera parte la stagione su strada l'enduro lo mettiamo via tra virgolette e cominciamo andare su strada l'anno prossimo adesso vediamo la stagione prossima vediamo se vendo il K prima o no però insomma se parte la stagione che non l'ho ancora venduto parto magari con qualche video con il K intanto che magari prendo la moto nuova diciamo se no c'è sempre anche il beta non ci fermiamo mai dai questo inverno ci sono un po' di manutenzioni cambi olio filtro devo fare un po' di video ci sono ancora da finire di montare degli accessori importanti para radiatori prossimo video andremo a fare queste cose qui perché devo in caso di caduta volevo salvarli para radiatori elettroventola un po' di accessori ancora di protezione gli ultimi accessori di protezione e poi la moto è come la voglio io bene ci vediamo al prossimo video dai Gnari un saluto a tutti alla prossima un saluto a tutti Grazie per la visione!